buongiorno a tutti da art majord sono due anni esatti da quando siamo partiti con il blog rifugiati di pelle al fine di febbraio del 2019 prima esisteva un altro blog scrivevamo su un altro blog art majord.com in inglese in cui riportavamo non tutte le profezie e le analisi bibliche che trovavamo ma era più specifico sull'analisi che stavamo facendo sulla terra piatta e così con questo video visto che sono due anni esatti voglio andare a parlare un attimo della storia di questi siti soprattutto di rifugiati di pelle.com sapendo che vogliamo offrire qualche cosa no a chi legge e vogliamo quindi andare a rinnovare questo sito riorganizzarlo affinché sia più leggibile perché noi abbiamo sempre tenuto questo sito un po come un diario in cui riportavamo volta per volta le nostre ricerche solo che una struttura di questo genere rimane poi alla fine poco leggibile no per chi entra nel sito la prima volta e quindi vogliamo riorganizzare un attimo gli argomenti con questo video quindi voglio andare a parlare di di come è nata tutta la questione era l'ottobre del 2015 io era già da un po che mi informavo su vari argomenti relativi alle verità che così tanto stanno uscendo in questi anni e che ci rendono maggiormente consapevoli dal 2011 studiavo sulle scie chimiche su 2001 su l'allunaggio e così via nel 2015 vengo a conoscenza del fatto che alcuni credono ancora che la terra sia piatta e tutto subito mi è sembrato incredibile sono arrivato a leggere il l'opus coletto 200 prove che la terra non è un globo di eric dubai me lo sono divorato e sebbene vedevo che c'era qualcosa che non era proprio tutto corretto comunque ho afferrato l'idea che quella è la verità la terra è piatta anche se inizialmente era solo intuitiva la cosa quindi era l'ottobre del 2015 l'ho comunicato alla mia famiglia mia moglie mia madre che mi hanno creduto hanno dovuto fare anche loro le loro ricerche comunque mi hanno creduto subito e mia madre con me abbiamo iniziato a piano piano a fare ricerche su questo su questo argomento e sono successe delle cose particolari per esempio le adriana mia madre ha iniziato ad avere una serie di comunicazioni divine a proposito proprio della terra e non solo oggigiorno sono più incentrate su argomenti profetici alcuni chiamano queste cose canalizzazioni quindi comunicazioni che vengono da un altro reame non vorrei però che si confondessero con cose relative a spiriti malvagi quindi le canalizzazioni spesso sono demoniche e queste cose si possono riconoscere dal fatto che spesso sono messaggi falsi non si avverano non sono coerenti invece a lei venivano date tutta una serie di comunicazioni enigmi quindi qualcosa da ricercare per poter essere capito che lei comunicava a me perché erano di natura scientifica io quindi dovevo andarmi a studiare ma anche lei ci dovevamo studiare tutta una serie di libri leggere argomenti studiare cose anche anche nuove per noi per poter capire che cosa voleva dire quel determinato messaggio e quindi ci veniva data una direzione di studio e piano piano quindi arriva a crearsi un modello di terra piatta che è del tutto coerente con quello che esiste sulla bibbia capivamo quindi che cosa diceva la bibbia a proposito della terra perché pur noi essendo stati testimoni di giova conoscevamo bene la bibbia in realtà non sapevamo effettivamente che questa parlava di terra piatta però tutte le descrizioni della terra che dà la bibbia in effetti sono coerenti con un modello di terra piatta e queste comunicazioni ci aiutavano a capire questa cosa piano piano poi ci siamo stati aiutati a capire il fatto che la questione era di natura spirituale cioè come mai la terra piatta esce adesso ci veniva spiegato che ci trovavamo in un periodo di sette tempi che erano i periodi che sono il periodo della fine e quindi la terra piatta è uscita nel periodo della fine perché l'adorazione solare che è stata impostata con il modello elio centrico doveva essere abbattuta e il popolo che sarebbe stato tratto dalle nazioni da dio doveva essere purificato da questo punto di vista quindi ci veniva detto che il nostro era un ruolo spirituale e veniva assomigliato accomunato a quello dei due testimoni che si che vengono descritti in rivelazione o apocalisse al capitolo 11 dove c'è questo l'apostolo giovanni cui viene detto di misurare il tempio e ci è stato fatto capire che il tempio è in realtà una rappresentazione del cosmo ma questo è abbastanza evidente no tutti i templi antichi luoghi di osservazione stonehenge erano orientati secondo le direzioni cardinali e diventavano punti di osservazione cosmologica astronomica solare erano punti di adorazione solare i templi sono punti di descrizione del cosmo quindi il cosmo la forma del cosmo ha un legame fondamentale con la nostra vita spirituale e ci dice chi è dio che cosa ha fatto dio è importante quindi sapere sapere queste cose e quindi i due testimoni devono predicare quello che giovanni misura devono comunicare e quindi ci veniva detto voi dovete comunicare e così abbiamo iniziato prima con il blog art major.com e poi adesso con il blog rifugiati di pella in italiano perché ci era stato detto inizierà tutto dall'italia e ci chiedevamo cosa e poi abbiamo capito con il covid e le cose che stanno succedendo e che stanno guidando verso la distruzione del sistema quindi chi legge questo articolo ha la possibilità di capire praticamente alcuni argomenti legati a questa ricerca cioè quali sono le misure della terra piatta e perché ci è stata raccontata questa falsità no è legata all'adorazione solare poi quali sono i tempi che stiamo vivendo quindi la chiave di lettura per capire le profezie bibliche che è una cosa incredibile noi stiamo vivendo la fase di giudizio del sistema in cui viviamo da parte di dio le basi storiche di tutto ciò perché chi crede al coronavirus chi crede alla narrativa televisiva è evidente che non ha conoscenza di ciò che è accaduto storicamente no e quindi dell'elite di potere che ha un'agenda e che vuole stabilire quindi delle fondamenta per un nuovo ordine mondiale e quindi chi non capisce queste cose non può avere una visione globale complessiva e spirituale delle cose e poi andiamo a vedere anche su questo blog quali sono le verità bibliche basilari che dobbiamo conoscere quindi sono quattro argomenti quattro pilastri su cui andremo a riorganizzare questo blog già si poteva comprendere tutto ciò fino ad ora ma semplicemente ora lo riorganizziamo e cercheremo di avere un blog organico maggiormente visibile e leggibile e speriamo quindi che sia utile per tutti voi quindi un augurio è quello di buona lettura e vi auguro una buona domenica e un saluto da Ertmajord ciao a tutti grazie Grazie.